Sì, io penso che il compito delle istituzioni, di chi ha un impegno in un comune, nella cosiddetta politica, sia quello di non farle chiacchiere, ma spiega che cosa succede in un bar, che cosa succede, spiega cosa succede in un quartiere, spiega cosa succede ai cittadini quando fai delle scelte importanti. Rimini ha dibattuto all'infinito su sto tema del cemento. Noi abbiamo fatto una variante anti-cemento, abbiamo detto stop al cemento. Cosa vuol dire? Vuol dire prima fare sotto i cantieri per le fogne e poi cominciare a fare sopra, ma meglio, riducendo. Molto spesso si parla, si parla, ma te non hai mai una foto, una visualizzazione di quello che, come dire, succede, potrebbe succedere se fai o non fai una scelta. Allora la conferenza stampa di oggi è stata un po' insolita, perché su due temi il cemento e il trasporto rapido costiero, il collegamento tra Rimini e Riccione, abbiamo deciso di far vedere ai cittadini con i fatti, con le fotografie, con i progetti, con i cantieri che oggi i riminesi vedono, che cosa avverrà. Partiamo da un punto. Nel 2013 noi abbiamo avuto il coraggio di fare la variante anti-cemento, cioè di togliere tutti gli indici possibili di edificazione. Siamo andati in Consiglio Comunale, ci hanno detto, verrete denunciati, non si può fare, ci sono i famosi diritti acquisiti, noi abbiamo rotto un tabù, ci siamo fatti un'assicurazione, abbiamo detto, le scelte per i figli, per i bambini, per il futuro, per Rimini sono scelte importanti, devi avere coraggio. Tagliare il cemento vuol dire fare le fogne e riqualificare sopra. Tagliare il cemento vuol dire che Rimini riusa, rigenera, riqualifica, va a intervenire sull'esistente. Allora oggi arriviamo ad un altro fatto importante. C'era un piano di espansione dell'ex Corial, un'impresa importante del nostro territorio, che aveva chiesto di ampliare davanti alle Befane il proprio ambito, come dire, d'azienda per arrivare fino a 36.000 metri quadri. La variante anti-cemento non è stata fatta per la Corial, ma per tutte, come dire, quelle progettazioni sovradimensionate, troppo, per il troppo che c'era. Quindi noi oggi passiamo, ad esempio, anche nell'interesse della Corial, che si sviluppa, amplia, darà più lavoro, ma senza andare a devastare o occupare il territorio. La variante anti-cemento ci consente di passare da un'espansione di cemento davanti alle Befane, che è questa in giallo, ad un'espansione dell'impresa che è questa piccolina. Senza variante del cemento avremmo avuto questo, 36.000 metri quadri anziché la metà e con altrettanti 14.000 metri quadri di parcheggi servizi e verde. Quindi più verde, più ambiente, più impresa e meno cemento e meno speculazione. Questo è il frutto della variante anti-cemento. Oggi c'è polemica, c'è la prima battuta che senti diventa una verità inconfutabile. Noi abbiamo detto che quello che dici prima delle elezioni lo devi fare dopo. Non abbiamo detto che chiudevamo il termo valorizzatore prima delle elezioni per vincere le elezioni, come è successo a Parma, come ha fatto il Movimento 5 Stelle a Parma. C'è il TRC? Bene, si può migliorare, si deve, si deve integrare la città. Io voglio arrivare in una stazione vicino al TRC, magari con la macchina, prendere una bicicletta e salire. I cittadini riminesi devono avere dei luoghi belli, riqualificati. Allora abbiamo lavorato a testa bassa insieme alla Regione. Il Comune di Rimini, io ho costituito dei giovani brillanti, qualcuno ci ha mandato delle mail sul web, brillanti laureati all'Università di Ferrara, un giovane ingegnere del Comune di Rimini, abbiamo detto prendiamo ogni fermata e facciamo la bella, facciamola integrata, ci può arrivare con la bicicletta. Succederà che nelle 11 fermate di Rimini tutte verranno riqualificate. Nel Parco Ausa ci sarà, stiamo pensando persino a un giardino botanico. C'è un esempio che oggi abbiamo fatto di che cos'è il TRC? Il TRC è, questo siamo in via Chiabrera, si viene giù dall'ospedale e si arriva al mare nella zona di Rimini Sud. Questa è la bruttezza attuale, ma non per il TRC, è come il sottopasso oggi. In più c'è il muro del TRC. Abbiamo lavorato per riqualificare non solo l'asta del trasporto rapido costiero, che sarà un filobus elettrico sostenibile, ma per riqualificare l'intera zona. Tu verrai giù dall'ospedale e invece di due corsie per ogni senso di marcia dove le macchine sfrecciano ci sarà solo una corsia. Al posto di una corsia ci saranno marciapiedi e piste ciclabili, un grande parcheggio di attestamento dove c'è la società del gas che servirà per le strutture ricettive e gli alberghi della zona. Quindi io posso arrivare al parcheggio, in sicurezza, senza sfrecciare e invece di trovarmi un sottopasso brutto, scalcinato come quello che abbiamo visto, lo vedremo riqualificato con interventi con listelli di legno sostenibile, con geometrie variabili e colorate, con un ambito urbano che sarà persino bello da andare a vedere. È ora di sfatare il mito. Guardate, per il TRC succederà come il mercato ambulante. Per 70 anni si discute, sarà un disastro, sarà bruttissimo, cambiano le abitudini. Noi non dobbiamo più andare troppo e solo con le auto nella nostra città. Ci sarà un intervento di 3 milioni 200 mila euro su tutte le fermate, dalla stazione a Miramare. Stiamo pensando anche di mettere a posto i dislivelli a Miramare, togliere le barriere architettoniche, cioè rendere fruibile la parte che sta sopra il TRC con quella sotto, con degli ambienti belli dove vivere, dove trovare un ambiente riqualificato. È storico questo che l'ambito della ferrovia a Rimini, prima del TRC e col TRC, era un ambito brutto. Via Pascoli c'era passaggio a livello con le barriere, oggi c'è un ambito riqualificato. Andiamo lì da Pascoli a Miramare a intervenire ulteriormente. Via Chiabrera sarà emblematico, sarà un pezzo di quartiere che si rigenera grazie al TRC e per il TRC. Tutta sta roba qui parte, perché guardate, se c'è una cosa, a me mi dicono, ma quello non è stato fatto, io dico sì, non è stato fatto, bisogna dire la verità. Noi diciamo quello che riusciamo a fare, tutta sta roba qui parte nel 2016. Ci sono già i progetti, arriveremo al progetto esecutivo e all'affidamento dei lavori. Tutta la riqualificazione della linea della ferrovia, insieme al TRC, vedrà delle fermate bellissime. Al Parco Ausa stiamo pensando ad un giardino botanico, ci si arriverà lì a prendere il TRC perché hai un motivo per andarci, c'è un giardino invece che un sottopasso anche, diciamo così, non solo brutto, ma anche forse poco sicuro. Aggiungo che ogni fermata del TRC avrà luci a LED e videosorveglianza. Ci saranno anche punti di emergenza dove se succede qualcosa puoi immediatamente segnalarlo, rivolgerti e chiamare Forze dell'Ordine e Polizia Municipale. Quindi più sicurezza e più riqualificazione urbana. C'è una strategia, c'è un'asta che collegherà il Tempio Malattestiano al bellissimo lungomare di Riccione e saranno tutti luoghi belli, da dietro Fiabilandia, a Miramare, a Via Chiabrera che finalmente non sarà una strada, una stradaccia che ti porta al mare passando per un sottopasso orrendo. Grazie. Grazie. Grazie.